Ciao cari amici followers e benvenuti in questo nuovo video. Iniziamo subito con riempirci un ottimo bicchiere di acqua. Volevo iniziare il video colloquiando con voi a proposito di quanto mi è stato scritto riguardante i diritti d'autore della musica della radio del McDonald's se ci fosse o meno questa preoccupazione, se fosse per l'appunto realistica oppure se fosse eccessiva la preoccupazione da parte mia. Non è stata assolutamente eccessiva perché mi è capitato in passato di andare per esempio in un ristorante cinese di pubblicare il video, il video in questione era quello dei due piatti di riso o anche quello dei gamberetti con i funghi neri e lì per l'appunto la monetizzazione mi venne bloccata dicendomi che avrei potuto cederne i diritti monetizzati alla radio cinese o comunque agli autori di quelle belle musiche alla salute loro o altrimenti avrei potuto semplicemente modificare il mio video togliendo la musica ho preferito lasciare i video in questione e cedere diritti ai musicisti cinesi scusatemi un attimo un po' di raffreddore che ancora persiste iniziamo subito con un primo panino quindi in quell'occasione del McDonald concludiamo il discorso mentre vi faccio vedere come è farcito questo panino con dei peperoni quindi siamo in un panino vegetariano sì, avrebbe sicuramente poi la radio del McDonald reclamato i suoi diritti quindi non c'è stata un'esagerazione da parte mia non è giusto dire che avrebbe fatto piacere e si trattava di pubblicità non è proprio così fidatevi di me che ci sono dentro alla vostra saluta salute e grazie caro amico che mi hai permesso di chiarire questo punto non è vero Grazie a tutti E' davvero molto azzeccato questa combinazione di peperoni verdi con peperoni rossi Grazie a tutti 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 Acqua Grazie a tutti